Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Eileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Come di consueto, ecco il video dedicato alle prossime uscite mensili in libreria e in edicola. Ma prima, piccolo avviso, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e se vi va per i vostri acquisti di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e i contenuti del canale. Grazie! Grazie a tutti! 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 Per l'ultima uscita il video si conclude qui. Se avete altri titoli da segnalarmi, suggerimenti e richieste lasciatemi pure un commento. Non vi mangio mica! E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!